Ha iniziato da qualche giorno il suo cammino con la comunità Aquilana, il nuovo vescovo ausiliare, Monsignor Antonio D'Angelo, nominato da Papa Francesco nei giorni scorsi. Finora era stato rettore del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese Molisano a Chieti. Un impegno accolto con gioia dal Molisano, Monsignor D'Angelo, che si dice desideroso di dare il suo contributo a un territorio bellissimo che porta ancora le ferite del sisma e non solo, dopo la pandemia il lavoro è ancora più gravoso, sarà fondamentale agire sulle comunità, ricostruzione non solo materiale ma anche sociale. Non basta solo la ricostruzione materiale, c'è bisogno anche proprio della ricostruzione della comunità, cioè di una comunità che ritorni a vivere soprattutto un aspetto relazionale di comunione, di incontro e certamente anche questo Covid non ha favorito questo, già il processo dopo un sisma è difficile da questo punto di vista di costruire una comunità, le relazioni e il Covid ovviamente ha contribuito a disgregare ancora di più, o meglio all'allontanare, a creare distanze. Allora sicuramente a quello che può essere la ricostruzione di pietra bisogna ricostruire la relazione, i cuori che si incontrano, le persone che si incontrano e che veramente possa esserci un rapporto di amicizia sereno e di fraternità.